C'avevo tanto dolore, non ce lo facevo e poi ha detto questo, Goran si è cagato, non vuole giocare, vai, gioca Kivu davanti a sinistra. Come stai Goran? Un buon momento della tua vita questo? Eh sì, buonissimo. Buonissimo momento. Io non mi alzo da qua fino a che tu non mi dici come sei arrivato a quasi 38 anni così, con questa fame, perché io ora guardo quello che hai fatto quest'anno, i 100 gol in Serie A, la salvezza col Genoa, 150 presenze con questo club, quello che stai per andare a fare. Il primo europeo della storia dell'auto nazionale. Eh sì, forse perché sono alla fine sono così carico, ma vabbè, sicuramente lavoro quotidiano tutti i giorni, perché la mia età per stare bene devi lavorare, devi allenarti più di prima, quando eri più giovane. Sicuramente poi fai quello, pensi quello che stai mangiando, la vita, quello che vai a letto prima, devi fare tanti tanti sacrifici, li facevo anche prima, però ultimamente li fai di più, perché a questa età i sacrifici ci vogliono. Per giocare a questi livelli non è facile e devi fare tanti sacrifici. Poi in nazionale, come dici, sicuramente abbiamo fatto un'impresa bellissima. Ti hai fatto il gol decisivo a Tbilisi contro la Georgia. Il gol nella vittoria contro la Germania. Tu sai che la Germania ha perso tre partite nella storia della qualificazione mondiale, una di queste con la Macedonia. Cioè, poi nessuno ci... Ma ancora non ci... Tanta gente da noi non ci crede ancora, ma anch'io, se essere sincero, la verità Germania è una squadra, come hai detto in ultimi vent'anni, ha perso due o tre volte. Poi le qualificazioni per i mondiali, abbiamo fatto una grande partita, però non pensavo che la potevamo vincere. Però abbiamo fatto veramente benissimo e siamo felici perché abbiamo vinto con una squadra che adesso può vincere anche l'europeo perché è una squadra di favorite. Per i ragazzi che guardano questa nostra chiacchierata. Ci sono tantissimi giovani che seguono il nostro progetto. Un 2003, un 2004, ancora non era nato quando tu sei arrivato in Italia, quando hai esordito in una squadra che oggi gioca in eccellenza e si chiama US Anconitana. All'epoca si chiamava Ancona e c'erano giocatori come Dario Ugner, Mario Giardel, Gantz. Mi racconti... Eh, sicuramente sì, perciò io mi hanno mandato in prestito, ero a Inter primavera, poi ho fatto Spezia in Serie C, poi da Serie C Ancona è venuta su, ha vinto il campionato di Serie B, è venuto in Serie A, poi ci hanno chiesto se sono andato in prestito là. All'inizio, giocare in Serie A per me era una cosa, un sogno, arrivare a giocare in Serie A, poi mi ha detto a Ancona, ho visto che giocatori c'avevo, che giocatori ha preso, fin'altro ieri li stavo guardando in tv, poi ho cominciato ad allenarmi con loro, veramente una bella soddisfazione. Anche quest'anno siamo retrocessi, però per me è stata una bella esperienza per iniziare in un campionato molto importante, perché era in Serie A e quell'anno era secondo me il miglior campionato di Europa. Non è vero che Dario Ugner fumava all'intervallo? Ah, non lo so se fumava, sì fumava, però l'intervallo non lo so, non l'ho visto forse in bagno, però fumava, però era un grande giocatore, poi era anche a fine carriera, per lui parlavano i gol, ha fatto tanti gol in Serie A. Tu hai vissuto un calcio completamente diverso, molto nostalgico e oggi nello spogliatoio immagino che ci siano atteggiamenti diversi. Sicuramente sono cambiate tante cose, adesso come ho detto anche prima, pensi cosa devi mangiare, c'è il nutrizionista, c'hai questo, devi fare così tutto il giorno, prima non era così, era più libero, come dici, giocavi, ti divertivi molto molto di più, anche era più combattente la Serie A, era molto molto, secondo me molto più forte. Adesso sono tanti ragazzi giovani che già pensano che hanno fatto grande cose e entrano dentro e non gli si può dire neanche niente, poi vabbè qua a Genova sono ragazzi bravissimi che possono ancora crescere tanto. Con il primo stipendio da calciatore professionista, mi dici se te lo ricordi, il primo regalo che hai fatto e che ti sei fatto, ti ricordi? Il primo stipendio qua in Italia è regalato alla macchina mio papà Giù, perché c'era una macchina vecchia che per arrivare giù all'allenamento prendeva il fuoco, però sì, mi ricordo che era prima che gli ho regalato una macchina, una BMW 320 mi sa, non era nuova, l'abbiamo trovata qua, poi la macchina era, per me cosa mi sono regalato? Niente. Pensi sempre più agli altri? Sì, sì, sicuramente per la mia famiglia. Andando avanti nella tua carriera, dopo l'Ancona arriva la Lazio, che è un po' l'esplosione di Goran Pandev in Italia. Io ho in mente tante fotografie della tua esperienza alla Lazio, quella che mi aveva impressionato di più, ero giovane ma mi aveva colpito, la doppietta con Real Madrid, se vado a vedere i marcatori, doppietta di Pandev, doppietta di Van Nistelrooy, contro una difesa che si schierava così, Sergio Ramos a destra, Cannavaro, Gabriel Ainz, Marcello, Casillas in porta. A pensarci oggi? Una grande difesa, a pensarci oggi mi sa che non lo tocco la palla, ero peggio. Sì, mi ricordo questo. Poi ho fatto 5 anni e mezzo alla Lazio, secondo me anni migliori nelle partite, le partite più belle giocate le ho fatte nella Lazio, poi ero giovane, con Delio Rossi, che mi ha dato tanto, mi ha dato anche la fiducia di giocare. Ho fatto, secondo me, tante belle partite alla Lazio, ho fatto anche tanti gol, poi ho giocato anche in tanti ruoli, non è che ho fatto solo attaccante, ho giocato anche sull'esterno, da quando è arrivato Di Canio, perché c'era Di Canio, c'era Rocchi, all'inizio c'era Muzzi, Peruzzi, c'erano giocatori importanti, Odo, Inzaghi, è una bella esperienza. Il giocatore in quello spogliatoio che ti ha insegnato di più? Ma forse è Zainetti a Inter, che è una persona veramente, lascia sta giocatore, che è giocatore non si parla neanche perché è fortissimo, però è una persona che ti dà tanto, che ti parla, ti aiuta e sicuramente per me era molto importante. Ecco, mi aiuti ad arrivare al momento più alto della tua carriera, l'Inter del triplete. Non so se tu hai visto il format quello All or Nothing, con il Tottenham protagonista, che c'è Murigno, che parla con Harry Kane, il primo colloquio di Murigno con una stella internazionale a me ha colpito. Lui va da Kane e gli dice, caro Harry, sei fortissimo, qua al Tottenham sei un campione, però il brand Murigno lo conoscono in tutto il mondo, il brand Ronaldo lo conoscono in tutto il mondo. Tu qualche step lo devi fare. Mi racconti il tuo primo colloquio con Murigno? Sicuramente, Murigno, io mi ricordo che ero fuori rosa alla Lazio e siamo andati a fare la causa e poi mi sono liberato. Mi sono liberato tipo mattina, hanno deciso che sono libero, dopo mezz'ora mi ha chiamato e ha detto, devi venire a Inter. Poi io, sono Murigno, devi venire da noi, mi ha detto, va bene, mi ha detto, mister, ma come faccio a giocare? C'è il Tottenham, c'è Milito, sei mesi sono stato fuori rosa, non ho fatto una partita, non voglio venire là e fare. No, ha detto, se tu meriti, se stai bene, giochi. Poi l'ho incontrato il primo giorno in Pinettina, abbiamo parlato, mi ha detto queste, 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 non li devi seguire, questi non sono per te, devi fare la tua vita, devi fare... Ma poi lui è uno molto sincero, è uno che ti fa sentire importante se anche giochi poco. Perché io mi ricordo a tempo di Inter, quelli che giocavano di meno a lui, lo volevano che è una maniera incredibile. Perché ogni giocatore quando non gioca c'è sempre qualcosa con il natore, no? La verità, là eravamo, poi eravamo un gruppo molto forte, però è tutto merito, merito suo perché ha creato una famiglia. Abbiamo fatto delle cose, se anche non eravamo secondo me più forti, però abbiamo vinto la Champions. Ecco, Barcellona-Inter, io se oggi vado a rivedere le formazioni di quella partita... Il Barcellona era fortissimo. Il Barcellona era fortissimo. Nell'Inter io vedo che nei tre, dietro a Milito, alto a sinistra c'è Christian Kivu. Che cosa è successo in quel riscaldamento del campionato? No, perché io mi sono fatto male la prima partita, mi sono stirato il primo tempo, poi ho giocato avanti con le punture e poi sono uscito. Prima partita a San Siro e poi non riuscivo a recuperare. Ha detto, poi ho detto, mister, prova con le punture, fai l'inscaldamento, perché se avevo tanto dolore non ce la facevo e poi ho messo... Ha detto, questo... Goran si è cagato, non vuole giocare, vai, gioca Kivu davanti a sinistra. Ha detto, è bene, ci difendiamo un po'. Però alla fine sì, poi abbiamo giocato quasi tutta la partita con l'uomo in meno che ha preso il rosso Tiago Motta, l'abbiamo fatto veramente, però a Milano abbiamo giocato benissimo, abbiamo vinto 3-1. Sì, sì, un'impresa storica, forse, anzi, sicuramente lì che avete vinto, perché poi le sensazioni da esterno per la finale col Bayern era che ok, era uno step in più, ma ormai era fatta. La sensazione era un po' quella. È perché noi anche l'ottavia di finale abbiamo passato con Chelsea, che Chelsea è un'altra squadra molto, molto forte. Abbiamo fatto passare Chelsea e Barcellona, anch'io ho pensato, è giusto che la vinciamo noi la Champions. A proposito di Chelsea, a Stamford Bridge il gol decisivo lo segna Samuel Eto'o. Una curiosità, il discorso pre-partita della finale contro il Bayern, lo ha fatto Eto'o o Mourinho? Eto'o ha detto che la finale non si gioca, la finale si vince, poi Eto'o è uno che ha vinto tanto, anche l'ha vinta la Champions, due o tre volte. L'ha fatto lui il discorso. Due triplete in due anni. Mourinho l'ha fatto parlare, l'ho fatto parlare a lui. Ecco, a proposito di discorsi pre-partita, lo so che è una cosa, io nel mio piccolo giocato a calcio, molto intima, molto da spogliatoi. Ma ora che hai quasi 38 anni, ci puoi dire il discorso pre-partita di un mister o di un tuo compagno di squadra, o il tuo magari, che ricordi con più forza nella tua carriera? Ma io, guarda, io sono uno che non mi piace parlare mai. Prima volta in Nazionale ho parlato l'ultima partita contro Giorgia, forse perché me la sentivo dentro di ringraziare i ragazzi perché le ha detto questa per me è l'ultima possibilità, però anche l'ultima partita. Giochiamo la nostra partita e che succede? Succede, però mi sono sentito di ringraziarli, di parlarli. Poi la risposta di miei compagni di Nazionale ha detto non è tua ultima, vinciamo e poi abbiamo in europeo. È stata una cosa bellissima. Io sono rimasto impressionato il post che hai fatto qualche giorno fa su Instagram, ringraziando Genova e i genoani. Sotto tutti i tuoi compagni, Criscito che ti dice altri 5 anni, Golda Niga che dice se molli ti vengo a prendere a casa, ti aspettiamo a luglio, in ritiro, a prescindere da quello che farai, tu qua a Genova sei amato, sei importante ancora. Ma sicuramente sì, anche dentro in Spogliato e poi noi siamo un gruppo molto anche in difficoltà, siamo usciti alla fine, siamo usciti fuori ma non anche nei anni precedenti che eravamo in difficoltà, però alla fine ci siamo sempre usciti e salvati. Sicuramente puoi vedere questi commenti, ma anche parliamo tutti i giorni, mi dicono tutti, beh, non scherzare, devi fare un altro anno, un altro anno. Però loro da fuori sì, io sto bene fisicamente, però per recuperare una partita ci vogliono tre giorni. Non è facile. Senti che qualcosa fisicamente è cambiato. Senti che qualcosa fisicamente non è, poi adesso, come hai detto tu, è cambiato tanto nel calcio, ci sono i ragazzi che tecnicamente non sono granché, però corrono. È difficile, però vediamo un po', vediamo dopo l'Europeo, adesso non voglio pensare a queste cose. Anche perché noi spesso anche in ufficio, nei ragazzi di cronache, facciamo un po' il giochino nel capire chi è il calciatore che ha lasciato meglio il calcio, perché è difficilissimo abbandonare, basta vedere quello che è successo in Italia con Totti, Buffon, che ancora non... Io parlo spesso con i miei ex compagni, tipo stanco, gioca finché ce la fai, però dopo c'è sempre tempo di smettere. Poi forse io non ho avuto tanti infortuni o infortuni gravi, forse per questo che sto ancora fisicamente abbastanza bene, c'è la gente che ha smesso prima di me perché ha avuto anche tanti infortuni. Sì, però l'infortunio spesso si parla di sfortuna nel calcio, vero, ma c'è anche un lavoro di prevenzione importante, di lavoro, cioè le carriere come la tua, ma se io penso ai due più grandi degli ultimi trent'anni, Messi e Ronaldo, non c'è un infortunio pesante nella loro carriera, non può essere un caso. Sicuramente il lavoro che fai tutti i giorni, come ho detto prima, conta tanto, poi devi avere anche la fortuna, non è che tipo tu in scaldamento ti puoi rompere il ginocchio, che è successo tante volte anche ai grandi giocatori, però... Come dici, poi adesso io conosco il mio corpo, lo so cosa devo fare, se non faccio un certo tipo di lavoro lo so che non sono pronto di affrontare queste partite. Qual è la cosa che se non la fai non recuperi adeguatamente? Ma io tipo da quando sono arrivato qua, perché sono arrivato da Galatasaray, fisicamente stavo malissimo poi qua con il lavoro. Anche moralmente? Sì, poi ho recuperato dopo sei mesi, ho recuperato le condizioni, però qua si lavora veramente a Genova, con Pilati e Fili, si lavora tanto, si corre, poi facciamo tanta forza che... Io ero abituato anche alla Lazio, alla Lazio facevamo la forza, mi sentivo bene. Poi quando sono andato a giocare nelle tipo Inter a Napoli, che giochi ogni tre giorni, che non c'è tempo di lavorare, là ho sentito un po'. Poi non giochi, non giochi una, poi due non giochi, non riesci... Però la forza a me che mi sta tenendo ancora in vita. Però ho fatto un'intervista a Materazzi e stavamo parlando dell'Inter e del Triplete e della tipologia di allenamenti di Mourinho. Il pallone lo vedevate abbastanza poco con Mourinho, tanta forza. Eh, lavoravamo sì, tanto. È tosto Mourinho? Eh sì, con lui si lavora tanto, ma anche palestra, corsa. Poi quando fai le partitine la gente va a mille, non ti puoi gestire. Poi c'è tanta qualità e ti diverti anche. Tu hai vinto, appena arrivato in Italia all'Inter, il torneo di Viareggio. Sì, no, eravamo una squadra molto forte in Italia. Poi mi sa che da vent'anni che non vincevano in Primavera, però quell'anno c'era Martins. A Martins le buttava la palla, pensava che era fuori e arrivava. Era una roba incredibile. Sì, poi eravamo, c'era giocatori forti, c'era Cordati in Porta, c'era Pasquale che ha giocato. Poi il 70% di quella squadra è arrivata in Serie A. E lì dici tutto. Ecco, se il Goran del torneo di Viareggio prendesse la macchina del tempo e arrivasse oggi, tu cosa gli diresti a quel Goran? Quale consiglio sentiresti di dargli? Il consiglio che posso dare a quel Goran? Se torno 15 anni fa mi sa che cambia un po'. La testa? Eh, sicuramente sì. Perché anche prima fai le cose come giovane, che è giusto anche di farle. Tipo fai qualche volta esci, poi a mattina, poi c'è mattina all'allenamento che adesso se faccio, se faccio una serata adesso, quando faccio non recupero più. Prima andavi e non pensavi a queste cose. Alla partita poi vai in discoteca, a mattina vai in allenamento, tipo riesci a fare le cose e adesso se torno indietro fai tipo c'è un altro. C'è un altro approccio al calcio, però a vederti da esterno, tu mi hai sempre dato l'impressione di essere un grande professionista, cioè uno che è malato di calcio, cioè è un po' la rossessione. È vero, sì sì sì. Ma guarda che io primo anno quando sono arrivato in Italia, sono arrivato a Milano, poi sono arrivato da Macedonia, una città piccolissima, sono arrivato a Milano. Io a Milano, primo anno, adesso io non conoscevo neanche una discoteca, c'erano i miei compagni di primavera, che sabato giocavamo, poi che è normale che vai a divertirti, non è che dopo la partita. Io a mattina andavo a San Siro, volevo vedere la partita, facevo racchiette palle, perché mi piaceva, c'era Ronaldo, come fai non andare a vedere Ronaldo? Era bello, puoi vedere tanta gente, a San Siro era sempre 60.000, era bello, ma ho detto io spero che arrivo anch'io a giocare in Serie A. Tu sei uno dei pochissimi nella storia del calcio che ha riunito 60.000 o 80.000 persone a San Siro alle 6 del mattino. Ah, però siamo arrivati da Madrid, mamma mia, non ci credevo, sono entrato a San Siro, c'era il sole, faceva un caldo, era pieno, ha detto ma non ci credevo. Poi hanno detto che la gente dalle mezzanotte, dalle 1 allo stadio che ci aspettava, poi ho fatto il doping fino alle 2 che non riuscivo, mamma mia. Ecco, quando hanno detto il tuo nome, perché io da piccolo in giardino facevo sempre la classica partitella contro me stesso, andavo sotto 2 a 0 e poi recuperavo e vincevo 3 a 2 e all'ultimo era Giulio e Cagli. Che cos'è quando Goran Pandev, quando senti che ancora gli dai un peso o onestamente ormai è un po' basso? Sicuramente, ma finché giochi gli dai un peso sempre. E' bello poi anche qua in gradinata quando era... E' bellissimo quando senti questo vuoto e poi dire il tuo nome, veramente c'è una sensazione che è fatto bene. E' importante. E per il Genoa ha segnato Goran! 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 Grazie!